E' stata presentata nella saletta del Politeama di Fano dall'assessora alla cultura e all'ambiente Cora Fattori l'iniziativa Paesaggi Sonori. Si tratta di una piccola rassegna sperimentale dedicata al suono promossa da Labo, scuola di musica, lingua e disegno rappresentata da Eleonora Fiorani, da Aras edizione di Federica Savini, dallo stesso cinema Politeama con la collaborazione di Arcadia e dell'ente nazionale Sordi. L'evento si organizzerà in cinque giornate strutturate in due passeggiate sonore in città, due conferenze e una proiezione cinematografica. Tutti gli incontri saranno al cinema Politeama con ingresso libero. Labo è un laboratorio di via giustizia dove si crea, si studia, ci si appassiona e si condividono esperienze. Una di queste riguarda l'attenzione all'udito tra musica e rumore. Si incomincia con una passeggiata alla scoperta dei suoni in città con partenza alle ore 11 di sabato dal Politeama. Si compila un questionario e si ritorna alle 15.30 quando ad attendere i partecipanti ci saranno Marco Monari e Alessandria Calanchi che valuteranno i dati. Sabato 29 aprile alle ore 11 è previsto un incontro su una percezione alternativa alla musica da parte dei sordi. Giovedì 4 maggio si procede con la proiezione del film Amusia. Il 6 con un incontro sul canto come fattore biologico e il 13 maggio si ripete la passeggiata sonora a Fano. Un modo per farci capire che i paesaggi non vengono solo visti ma vengono anche ascoltati e molte volte ci dimentichiamo di ascoltarli. L'udito sembra quasi un senso di serie B. Quando non è affatto così è molto importante. Avremo un incontro con l'ense niente nazionale sordi in cui metteremo a tutti i partecipanti tappi per le orecchie, daremo un palloncino gonfio per capire come ascoltano le persone che sono ipodenti. Poi ci sarà un film per spiegare la patologia della musia perché esistono persone che sentono, ascoltano ma non percepiscono la musicalità e questo è una patologia che molto spesso sottovalutiamo. C'è anche però un aspetto sgradevole del suono che è quello dell'inquinamento sonoro. La nostra difficoltà è che quando i cittadini ci chiamano per poter fare le misurazioni noi dobbiamo riferirci all'ente ARPAM che è dotato di tecnici bravissimi e che ringraziamo ma purtroppo sono sotto organico. Stiamo per questo predisponendo una convenzione con l'Università Politecnica delle Marche è la prima volta. L'obiettivo è un suggerimento, una proposta, per esempio prima di coscientizzare la differenza fra rumore e suono che tanti musicisti fanno nell'approcciarsi anche alla musica elettronica è quella di innamorarsi dei suoni. Quindi ciò che ha disarmonia potrebbe essere nel giusto contesto trasformato in un genere. Lo showgaze, il lo-fi sono tutti generi amati dai ragazzi e i ragazzi hanno bisogno di dialogare anche con altre generazioni. Quindi anche un'idea di avvicinamento fra le generazioni per esperire a livello acustico la realtà. Perché il suono ci lega tantissimo, crea la nostra voglia di apprendere, la nostra spazialità e spesso è molto trascurato, subissato rispetto al monopolio della visione. Abbiamo deciso di dar vita a questa rassegna per raccontare il territorio anche attraverso il suono. Il suono che poi può essere riportato nella pagina attraverso delle pubblicazioni sicuramente originali da contenuti direi insoliti. Quindi leggeremo il suono? Leggeremo anche il suono, sì. Le dirò di più. Probabilmente nel futuro leggeremo molto anche con le orecchie. Se pensiamo a podcast, audiolibri, quanto anche queste nuove forme di comunicazione stiano prendendo piede, devo dire che sì, la lettura e il suono potrebbero andare di pari passo molto più di quanto ci possiamo aspettare, soprattutto nel futuro. Grazie. Grazie. Grazie.